buongiorno a tutti ragazzi benvenuti alla lettura per il segno dei pesci valida per il mese di giugno è una lettura generica se non risuona con tutti guardate quelle del vostro segno ascendente oppure quello della vostra luna e sicuramente fra queste troverete quella che manifesta quella che presenta l'energia che voi state in qualche modo canalizzando in questo mese se volete invece conoscere i prezzi delle sessioni private o i pacchetti che comprendono analisi karmica e coaching o se volete informazioni sui videocorsi inviate una email alla mia assistente oppure andate sul sito internet e trovate lì tutte le informazioni che vi servono ma iniziamo e vediamo un po che cosa accade nella vita dei pesci questo mese andremo a vedere un po le energie generali inizialmente e poi alla fine del video vedremo più nello specifico cosa accade per i singoli e per le coppie cominciamo a vedere questa energia generale che è un cinque di spade quindi è un cinque di spade nel quale qualcuno sta ottenendo delle vittorie magari è la coppia che sta ottenendo delle vittorie però ecco è un po un cinque di spade è un po sono un po delle vittorie sono un po delle vittorie forzate quindi trascinate come se le cose non fossero andate non stessero andando in modo molto molto liscio e molto scorrevole ma fra un ostacolo e l'altro noi proprio saltiamo gli ostacoli uno ad uno uno ad uno come in una gara infinita e alla fine riusciamo ad arrivare al traguardo però ci siamo arrivati stanchi ci siamo arrivati comunque un po sfiancati abbiamo dovuto sforzarci particolarmente magari siamo anche scesi a compromessi in certi momenti per raggiungere questo risultato fatto sta che c'è questo risultato c'è questo cinque di spade quindi c'è la possibilità di ottenere per noi o per l'altra persona coinvolta un qualcosa di importante ma andiamo a vedere le singole colonne perché in una colonna troverete voi stessi nell'altra troverete il vostro partner quale colonna è la vostra e quale invece è quella del vostro partner o della persona con la quale siete coinvolti in questo momento alla quale siete interessati lo capirete man mano che leggerò vi ritroverete nell'una o nell'altra colonna chi si trova sulla prima colonna è super innamorato chi si trova di qui ha un cavaliere di un cavaliere di coppe un cavaliere di denari un asso di bastoni ma anche la carta delle anime gemelle c'è un sei di coppe rovesciato chi sta da questo lato è super innamorato sia parezia per i single che per le coppie quindi ecco c'è uno uno dei due che va veramente dritto come un treno è un mese nel quale si sente un'aria di romanticismo un'aria di un movimento vero reale che questa persona sta compiendo verso l'altro è un desiderio non solo di romanticismo non solo di amore di passione perché c'è proprio tutto ci sono tutti gli elementi ma c'è anche la voglia di costruire insieme c'è un c'è una voglia di avvicinarsi all'altro per creare per andare verso questo futuro che poi sarà il risultato di due futuri che si fondono insieme e che ne creano uno solo ecco un po il senso di cosa significa davvero essere in coppia in relazione il desiderio è quello tra l'altro di un di un inizio che può essere appunto per le coppie un nuovo inizio con la stessa persona oppure un nuovo inizio nel caso in cui voi siete singole state guardando questa stesa ecco che uno dei due sta anche impazzendo di desiderio c'è una forma di passione in tutto questo molto forte molto spinta molto diretta verso l'altro c'è tutto c'è attrazione c'è sentimento c'è affinità che sia vero che sia un'illusione lasciamola correre perché comunque sono delle energie molto belle cosa questa persona fa e cosa non dice c'è un sei di coppe rovesciato c'è un sei di coppe rovesciato che stona un po in tutto questo perché è come se questa persona per arrivare a questa condizione a questo desiderio di andare avanti avesse messo da parte avesse messo da parte certe idee certi principi non sta guardando c'è qualcosa che ha scelto di non guardare c'è qualcosa che ha scelto a cui sceglie di non pensare ma magari lo capiremo meglio dopo chi sta sull'altro lato si sente come un sei di denari rovesciato prova l'imperatrice vorrebbe il tre di coppe rovesciato e si comporta come un quattro di denari rovesciato e non dice la regina di spade chi sta dall'altra parte invece secondo me va un po convinto perché c'è l'amore chi sta dall'altra parte si è innamorato qua c'è amore da parte di entrambi qua c'è un forte sentimento da parte di entrambi chi sta da questo lato ha voglia di prendersi cura dell'altro ha voglia di amarlo ha voglia di a voglia di dare se stesso o se stessa però per qualche motivo sente che c'è una sorta di ineguaglianza c'è una condizione che non permette l'equilibrio ci sente o come uno che dà troppo o come uno che non non dà abbastanza e questa è una condizione che è un po crea degli scompensi crea degli scompensi perché invece questa questa persona sente il bisogno di qualcosa di più equilibrato nonostante l'amore nonostante i sentimenti però però c'è questo qualcosa a livello di dare e ricevere che non va infatti il desiderio è quello del tre di coppe rovesciato questa potrebbe essere una stesa per esempio che va molto bene nel caso in cui ci sia qualcun altro coinvolto perché nel caso in cui ci sia qualcun altro coinvolto questa è una persona che sa che non sta dando e ricevendo in modo equilibrato perché c'è un'altra persona coinvolta perché c'è un tradimento in ballo perché c'è una un flirt un qualcun altro che viene rappresentato dalla regina di spade rovesciata non ha importanza se sia un uomo una donna coinvolto perché comunque nella tarologia le carte non vanno prese come maschili e femminili ma come energie maschili e femminili quindi ecco che questa rappresenta un'energia femminile ma potrebbe anche essere un uomo che magari sta manifestando il suo lato più femminile al momento però ecco chi sta da questo lato si si prende cura della coppia ama il partner o l'altra persona di cui stiamo parlando che si tratti di singolo che si tratti di coppie e vive questo voler stare con l'altro ma allo stesso tempo c'è quest'aria di tradimento quest'aria di cose che non vanno bene questo desiderio di altro che comunque fa sentire questa persona molto chiusa in qualche modo mette in luce una certa chiusura una chiusura che parte dal cuore e vediamo però un po specificamente che cosa sta accadendo nelle coppie e poi vedremo nei single dunque per quanto riguarda le coppie ok abbiamo una carta di qua e una carta di qua per quanto riguarda le coppie c'è un po un senso di solitudine da parte di uno dei due c'è un senso di solitudine che non si capisce se è subito o creato autogenerato e la carta del mondo rovesciato che invece è la carta di chi pensa che ancora qualcosa non è maturo abbastanza per passare alla fase successiva però vorrei vedere se ci sono interferenze e che ruolo hanno queste interferenze nell'ambito della coppia sì sì c'è l'interferenza per chi è in coppia c'è un'altra persona e tra l'altro con quest'altra persona potrebbe anche esserci una relazione quindi un qualcosa che va già avanti da un po o in alternativa potrebbe essere un'amicizia che rischia di diventare altro un'amicizia verso cui questa persona prova qualcosa di più potrebbero benissimo essere delle carte di qualcuno che vorrebbe lasciare il proprio partner per mettersi con un'altra persona ma non lo fa perché non è ancora pronto ci può stare potrebbe essere un'opzione ma vediamo invece vediamo invece per quanto riguarda i single e infine andremo a vedere il consiglio degli angeli dunque per i single abbiamo un 9 di bastoni rovesciato e un 5 di un 5 di denari allora per quanto riguarda i single c'è uno dei due che sta impazzendo c'è veramente uno dei due che sta impazzendo uno dei due che desidera andare verso l'altro ma ma si sente in qualche modo costretto a fare qualche passo indietro perché l'altro vediamo un po perché l'altro non ne vuole sapere di fare le cose di impegnarsi l'altro non ne vuole proprio sapere di impegnarsi non può o non vuole non è chiaro non può o non vuole forse perché c'è qualcun altro coinvolto anche in questo caso vediamolo un po dunque uno è poverino uno dei due mi fa proprio fa proprio tenerezza perché è vero eh sì infatti c'è qualcun altro è uno dei due secondo me proprio si si rende conto di quello che sta perdendo e vorrebbe proprio correre verso l'altro e si sente incapace di fare qualunque cosa con lotto di spade non sa muoversi non non sa non sa andare né avanti né indietro l'altro invece vorrebbe andare verso qualcun altro vorrebbe andare verso un altro interesse e nonostante voglia bene a questa persona perché c'è una forma di affetto di fo di sì affetto di fondo c'è comunque un voler bene all'altro però questo voler bene non corrisponde esattamente ai sentimenti invece dell'altro che sono molto più forti molto più passionali quindi ecco che questa persona per quanto può voler bene a chiunque sia dall'altro lato però ha un altro interesse quindi ecco che tutto si complica vediamo un po il consiglio degli angeli allora abbiamo un otto di fuoco l'otto di fuoco parla di eventi in rapido movimento ecco l'otto di fuoco è quella carta che ci dice che se ci sono state delle situazioni nelle quali abbiamo magari sentito di andare troppo piano avevamo più fretta di fare le cose o le cose sono rimaste un po bloccate per un certo periodo di tempo ecco che invece è un momento in cui i ritardi finiscono anzi non solo i ritardi finiscono e i blocchi si tolgono dalle scatole ma è un momento in cui gli eventi si svolgeranno in modo molto molto rapido uno dietro l'altro addirittura alcune cose questo mese potrebbero anche accavallarsi una sull'altra e quindi potremmo avere bisogno di gestire diverse cose contemporaneamente quindi ecco l'unica cosa l'unico consiglio che posso darvi è proprio quello di tenervi pronti tenervi pronti proprio perché se avete avuto un momento in cui sembrava che tutto andasse piano ecco che adesso invece tutto va veloce e certe cose necessiteranno magari delle decisioni da prendere delle scelte da fare delle azioni da compiere al momento giusto quindi ragazzi per il resto io vi invito a inviare una mail o andare sul sito se volete una sessione privata altrimenti ci vediamo alla prossima